Ha preso il via venerdì pomeriggio in piazza degli Olmi a Matera la festa provinciale dell'unità democratica di Matera organizzata dal Partito Democratico della provincia materana. Due momenti di confronto hanno animato i lavori rispettivamente sui temi lavoro e sviluppo e mezzogiorno e sanità. Un momento di confronto che animerà non solo Matera ma anche la sua provincia fino a domenica. Un momento di confronto con i dirigenti del partito e non solo, coinvolgiamo anche le associazioni sindacali e culturali. Tre giorni intensi dove si parlerà di lavoro, sviluppo, turismo, incendrato anche alcuni dibattiti su Matera città e in due momenti particolari verrà dislocata, una su Nova Siri, domani pomeriggio Giardini d'Oriente sul turismo e poi la chiusura a San Mauro Forte. Queste tre giornate hanno riunito oltre che tutti i rappresentanti di questo partito anche la cittadinanza a cui premono molto tutti gli argomenti che andremo a trattare anche nei prossimi giorni. Matera insegnita di questa carica importante nel meridione e proprio in questi giorni festeggeremo il trentennale come UNESCO. Andremo a parlare di temi molto importanti a cui ci rivolgeremo con grande rispetto e grande sensibilità. Tratteremo anche del turismo, tratteremo dei giovani, del welfare, delle donne, delle pari opportunità. Intanto, rispetto al dibattito sulla scelta di un candidato governatore alle regionali del 2024 che nelle ultime settimane sta certamente animando il dibattito politico, nessun nome è ancora arrivato al vaglio del tavolo. Lo ha precisato in una nota il segretario regionale della Basilicata del PD, Giovanni Lettieri. Ci arriveremo sicuramente, ma per adesso, ha aggiunto, la questione non è stata affrontata.